Ciao ragazzi e credo che rispetto a me siate un po' tutti ragazzi. Io sono Raph Gardner, ho 58 anni e ho sempre studiato e lavorato nel mondo della comunicazione. Ovviamente prima di internet era tutto offline, ma comunque c'è stata un'era pre-internet molto importante dove con l'Adobe si dava inizio un po' quello che era il mondo digitale. Immaginate la difficoltà che posso avere avuto nel fare tutti questi switch che mi hanno portato ad avere poi molte competenze orizzontali come il marketing, i social media, il publish speaking, il brand positioning, l'advertising e soprattutto quella che è diventata la mia competenza più verticale e che consiste nel fare video, interviste e fare capire a imprenditori, freelance e professionisti che potrebbero comunicare il proprio valore e business anche attraverso i video. Oggi il mio sogno è fare in modo che queste figure professionali possano realizzarsi in autonomia le registrazioni video e poi io con il mio team provvediamo all'editing aiutando professionisti prima anche a curare gli argomenti, a parlare in modo adeguato e a capire l'importanza del fattore differenziante per distinguersi dalla concorrenza. Oggi sono felice di essere in questo gruppo di giovani atomici quali siete per imparare da voi a diffondere i contenuti in modo moderno, attuale ed efficace, sperando anche di portare un po' della mia esperienza.